buongiorno ragazzi allora che dire oggi di che parliamo oggi parliamo di king kong che è passato un'altra volta per l'ennesima volta per l'ennesima volta dagli americani allora ricordatevi questa frase che ha scritto di suo pugno in un video suo di oggi perché fra qualche giorno se vedrà un'altra notizia cambierà un'altra volta la versione che poi questo elemento scrive queste cose allora fino a ieri ragazzi ma ve lo ricordate dai ve lo ricordate quante bandiere arabe ha messo quante emot di sirene ha messo quante volte ha scritto boom tutto fatto e in alcune notizie rubate su altri canali diceva nel virgolettato del suo titolo come detto da questo canale approfandosi di notizie che prendeva di qua e di là da google da twitter e quante volte avete anzi qualche giorno fa ha detto qua non si cambia versione vi ricordate quando ha pianto davanti la mail di twitter e cosa è più importante vi ricordate quando io in una live dissi che poi è nato tutto il casino che quello non sapeva un cazzo che faceva solo casino solo casino perché questo tutti i giorni faceva 6 mila video anzi fa ancora 6 mila video su su questo argomento va bene comunque ricordatevi solo di questi screen qua che poi uno può fare quello che vuole però poi non vuole rimontare il carro scendere rimontare poi ti volevo fare i complimenti per i 4.220 iscritti cioè questo in due settimane ha fatto 8.000 iscritti ieri sera ne aveva 4.150 alle 3 di notte ne aveva 4.220 più 70 ti faccio i complimenti i miei più sinceri complimenti anche se non capisco come fai perché poi alla fine non ti vede nessuno te facevi solo visual visual solo se scrivevi pif inter guarda la differenza quando parli di calcio e quando scrivevi pif inter ciao ragazzi e complimenti road to 5 mila iscritti